C'è un personaggio che ha riempito le croniche italiane del dopoguerra, Paolo Casaroli. Cresciuti nel clima di guerra, dove naturalmente è un'atmosfera tutta particolare, intraducibile a parole, viva la sua esperienza, gli amici che morivano sui bombardamenti e si tratta alla conclusione che la vita è un fatto così, provvisorio, che in questa conformazione mentale, dopo il dopoguerra, nell'impossibilità, nella lotta della sopravvivenza, proprio una sopravvivenza quasi animale, si dembo all'assalto delle banche. Ma non è che si preordinasse, si facessero piani, si agiva proprio di impulso, si partiva quasi la ricerca dell'autodistruzione, infatti il risultato ultimo furono suicidi. Due di voi si ucciscono, e cominciò a sparare, lei quella mattina? No, fu Ranussi, fu il mio amico. Sparò ai poliziotti? Sì, adesso immagino che questo mio amico Ranussi era un partigiano della settima GAP. Poi ce n'era un altro invece che era? Che era attività delle brigate nere. Si chiamava? Faris. Poi c'era un altro De Luca che era del servizio segreto tedesco. Poi di tutto, ma quanti morti ci furono in tutta questa storia? Quattro morti. Due che si ammazzarono. Sì, poi ci fu un tassista ucciso. Un tassista che era colpito da una palotta lavagante, poi ci fu un ex marisciallo dei Carabinieri, poi ci fu un direttore di banca. In totale quanti anni le diedero al processo? Le diedero al regastro. Il rimorso esiste? No, perché il fatto che la morte dei miei compagni, che fu per me un dolore atroce, il fatto che... E quello dei poliziotti anche loro. Sì, d'accordo, ma a un certo punto c'è una compensazione. Sai come dire? Io pago quello che ho fatto scontato è atroce, il dolore che ho sofferto è atroce e pertanto sono pari. Ecco, una compensazione di fatto che lei dissenta o meno è così, ecco.